Siamo in un istituto superiore, volete sapere quale? Liceo classico Giovanni Battista Vico di Nocera Inferiore. Direte, è l'austerità dell'istituto? Ma insomma, lasciamo perdere per una sera l'austerità, l'autorevolezza, che comunque rimarrà. Stasera è la notte del liceo classico e stasera si parla non solo di antichità, si parla di storia, si parla di cultura, di letteratura, di pittura. Il tutto preparato da bellissime ragazze che sono le allieve del liceo Giovanni Battista Vico di Nocera Inferiore. Le parole davvero sono inutili, le parole sono preziose, quando sono tante perdono di valore. Io penso che girando nei corridoi di questa scuola si possa assaporare appieno l'idea di una scuola viva, l'idea di una scuola a misura di ragazzi e soprattutto di una scuola che non sia solo rosa, rosa, rosa. Ma anche che non si arrende, soprattutto, perché comunque questo gigante, pur essendo vecchio, però ha un cuore giovane, siamo tutti giovani che hanno voglia di portarlo avanti, quindi stiamo lavorando tanto anche con l'Open Day, così per lasciare i nostri, diciamo, futuri ereditari, i nostri amici, per portare avanti questo bellissimo gigante che man mano si apprezza sempre di più. Io veramente vivo attraverso il loro sorriso, i loro occhi. E sei riuscita a farli sorridere tutti, eh? È vero. Ragazza è recita, non lo so. Si è riuscita in grado. Ah sì, sì, eh lo so, lo so, l'ho vissuto in prima persona. Guarda le sue spalle, che meraviglia. Che bella. Insomma, ai nostri tempi non lo abbiamo potuto fare. No, no, no. Bene, ragazzi, congratulazioni, in gamba. Sono ragazzi di valore, voglio dire. È una bella soddisfazione. Sì, sì, senz'altro. Nipotino. Nipotino, che recita e ci faccia ci faccia. Sì, recita un piccolo ortometraggio sulla Madonna delle Galline. Sono delle iniziative interessanti, perché poi vedi, fanno diversi spettacolini, fanno diverse cose. Eh sì, perlomeno sono un poco creativi, perché poi ho visto che ognuno di loro ha organizzato qualcosa. La notte del liceo classico è una bella esperienza, per me è la prima volta. Io non sono di questo istituto, sono dell'ITC Pucci, però il liceo classico è il primo. Si fa valere? Sì. Mi sale divertente, su? Sì, tanto. Allora, ancora finiremo stasera. Penso tardi, verso mezz'ottima e mezza. A te conviene tenere altro viaggio. Mi spose, puoi che la prima mi viene. Se vuoi campare desto loco selvaggio, che questa bestia per la quale tu gride non lascia altri passare per la sua via, ma tanto lo impedisce che lo uccide. Molti sono gli animali a cui si ammoglia e più saranno ancora, infinché il vetro verrà che la farà morire con doglia. Ciao. Sì, prego. 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 Buon paio. Buon paio. Buon paio. Buon paio.